il microfono al massimo della sensibilità ciao 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 grazie di essere qui con me oggi oggi ho deciso di provare un video che ho visto un po' all'estero che è col microfono al massimo della sensibilità quindi al massimo di ciò che può catturare di solito non lo tengo mai così perché dopo alcuni suoni risultano troppo forti però ci volevo fare un video con suoni delicatissimi con un po' questa voce piena 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 di piccoli mouth sounds insomma è un buon esperimento però volevo capire se una tipologia 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 divisi da strada può piacervi quindi ho parlato un po' di suoni super delicati quindi ho deciso di farlo con i bluietti per provare con questo e poi suolite magari lo farò anche con i microfoni e quelli che già hanno sensibilità alta di loro quindi che con la sensibilità al massimo probabilmente prenderebbero anche il battito del mio cuore quindi ricordatevi di mettere un bel mi piace un bel cuore 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 cuoricino e di lasciare un commento e io nel momento in cui starete guardando questo video sarò via in ferie però ci tenevo comunque tantissimo enormemente e lo sapete a non lasciarvi senza video quindi i video usciranno come state vedendo sempre comunque due volte settimana quindi lasciate anche un commentino di supporto per farmi capire se apprezzate questo sforzo di mettermi avanti o se non me ne frega niente presto per aver ritorno in maniera senza video non saprei però ecco fatemi sapere se vi fa piacere io lo dico perché a volte lo so che molte persone guardano i miei video ma non interagiscono io stessa a volte sono così magari vi si deve dire di mettere mi piace se no c'è un commento altrimenti mi scordo quindi ve lo dico così non vi scordate non vi scordo la che mi segue già sul secondo canale il mio canale è vlog che si chiama chi era presa lo lascio sempre qui giù in descrizione mi saprà già dove vado in vacanza che poi in realtà vuole girare tantissimi video anche lì ma lo dico anche qui perché penso proprio che c'era un video lì perché sicuramente è unico e andrò cioè in questo momento sarò spero in Brasile in in Amazonia in particolare nella foresta amazonica e ho pensato anche di appunto portare dei microfonini perché mi hanno riferito che i suoni della foresta sono meravigliosi sono unici per comunque una foresta diverso alle nostre e quindi vorrei un attimo canturare l'unicità dei suoni che ci sono lì quindi penso a questo video lo vedrete appunto appena tornerò spero spero verrà bene non saprei in particolare faremo due settimane in tutto compreso anche il viaggio volo eccetera e faremo un po' di giorni a Rio de Janeiro per poi volare verso la capitale 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 della foresta amazonica e e da lì prendere un battello in 24 ore arrivare nel nostro villaggio e appunto da lì prendere un battello e fare tutto il Rio fino ad arrivare nel nostro villaggio e staremo lì circa 5 notti per lui risalire a Rio e tornare e spero sarà un'avventura interessante spero di vedere tanti animali e spero venga anche un video su me unico ho preso queste ampolline piccole piccole che carine sono troppo belline perché fanno un suono biceicato suonare 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 stupenda 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 avrà il microfono anche ad ora di salvio per mesi è tipo velluto naturale stupenda 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 e appunto vorrei provvedere del fatto che ci fosse il microfono con la sensibilità al massimo per farvi sentire questi suoni delicatissimi, praticamente impercettibili a orecchio nudo stupenda forse questo video dovrei fare con il microfono 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 con più alta sensibilità che io possiedo però quello veramente ci deve stare il silenzio assoluto assoluto a presto Grazie. 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 Prendiamo anche un po' di trigger words. Words. Corsa. 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 Altro. Colosso. Colosso. coloso tap 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 agri 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 palloncino 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 ricerca 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 l'ultimo trigger che voglio proporvi è con questo olio limanoi tra l'altro mi sono arrivate un po' di richieste di dove l'ho comprato io l'ho comprato in polinesia quindi non so veramente se si trovi qui in Italia sicuramente non si trovano le stesse marche ma magari qualcosa c'è sicuramente c'è semplicemente non li ho mai comprati qui non so come sia non si apre lo stesso profumo vi giuro questo ha un profumo di cocco e vaniglia però completamente naturale è un po' floreale 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 questo è mezzo liquido e mezzo solido l'ho promenato mai negli anni perché l'olio di cocco si scioglie a 25 gradi quindi si vede che nel mio bagno non c'è neanche tutto questo caldo quindi è 9 di mezzo però più sopra i 25 che sotto comunque vediamo vediamo i Grazie. 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 E prendo un altro po' Grazie. 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 Questa parte sono un po' meno secchi. E' dal contrario. Ok. Ok. Io spero 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 davvero che questo video vi sia piaciuto questo video è un pochino diverso dal solito con un concept un po' diverso e con suoni un po' più delicati vi sia piaciuto con magari emo sounds un pochino accentuati insomma e io penso proprio proprio si è aggiunta l'ora appa appassar 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 le due e augurarvi augurar è ad 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 una buona 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 notte buona 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 notte sogni d'oro sogni d'oro good night good night good night sweet dreams buenas 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 notte dulces sueños bon nuit bon nuit bon nuit Tech vit e bon năm le canoste guardate i bei incolli mini gelati un mazzone che ne spera